Festival dei motori 2010, grande successo come oramai è consolidato. Salvatore Culcasi è il collaboratore della direzione della Centro Fiera di Montichiari. Credo che anche quest'anno, nonostante il tempo, poi minacci qualcosa di non bello, ma la gente c'è, i mezzi ci sono, i feti autentici ci sono. Come sempre la manifestazione è veramente uno spettacolo. Quest'anno poi abbiamo superato tutte le aspettative. La gente che viene a vedere la manifestazione troverà sicuramente degli oggetti interessantissimi. Abbiamo Rombo di Tuono con il National Contest del Custom, abbiamo il Tuning, abbiamo le macchine americane, abbiamo le macchine americane da film, il commerciale, il Formula Challenge, è veramente una manifestazione spettacolare quest'anno. Tu che sei giovane, cosa hai trovato di bello qui dentro? Non ho ancora visto niente. Quindi dovrai ancora vederlo, poi magari chiediamo qualcosa di sostanzioso. No, non ho visto niente, non ho visto niente, non ho visto niente. Questa è una manifestazione adatta a tutti, abbiamo qui anche una giovane ragazza, sia a quelli di una certa età, ma anche ai giovani. Questo per far, come si diceva anche con Giorgi, far capire che i motori è un divertimento, un hobby, ma quello deve rimanere e soprattutto essere coscienti di quello che si sta facendo. Stiamo sensibilizzando i giovani, abbiamo all'interno di un padiglione una scuola di guida di moto, sicura, portiamo avanti diverse iniziative benefiche, ma soprattutto interessanti con le scuole, proprio per sensibilizzare i giovani a guidare con la testa, cercando di essere assolutamente prudenti, tranquilli e attenti e rispettosi degli altri.